Si è chiuso domenica Open Festival, Ercolano nei luoghi e nell'arte, una manifestazione giunta alla terza edizione con la direzione artistica di Gigi Di Luca, con quali risultati? È stata un'onda contagiosa, mi piace parlare di contagio al positivo, tra artisti, pubblico, luoghi, c'è stata una grande energia, abbiamo avuto il tutto esaurito per tutti gli eventi, sia quelli di spicco che quelli di grande qualità, ma con nomi non da cartellone, vogliamo così dirla, in termini artistici. Questo grazie innanzitutto a una grande voglia di ripartenza, la voglia di rifare, la voglia di riniziare, ma grazie a un buon lavoro che abbiamo messo in atto in sinergia con l'amministrazione comunale di Ercolano, che voglio ringraziare perché abbiamo vinto la bazar, ha vinto un bando nel 2019, una manifestazione di interesse, loro hanno creduto in questo progetto e quindi io devo dire grazie a loro noi abbiamo potuto realizzarlo, anche se l'abbiamo portato avanti, slittato nel tempo. E' stato poi un festival molto accolto per la sua formula, quindi le aperture dei luoghi, un festival che ha messo in cartellone quattro concerti di grande qualità, uno spettacolo teatrale, uno spettacolo con fuochi pirotecnici, trampoli, un laboratorio per bambini, due visite guidate, una installazione di body painting in solo tre giorni. E quindi questa voglia di spostarsi da un luogo all'altro, un po' come le idee creative che io metto a disposizione dei territori, piace molto al pubblico, c'è stata grande qualità, grande capacità organizzativa. Si riparte dunque dalla cultura in un momento in cui invece nella città di Torre del Greco c'è un forte dibattito politico su un teatro comunale. Io non entro però nel merito, se è meglio, diciamo, instaurare un teatro in un luogo storico che sia già da tempo adibito a teatro, anche se non più in uso, o in una nuova struttura. Per me possono essere percorsi paralleli, ogni spazio ha una sua vocazione, è una sua suggestione. E direi che lavorare in un centro storico diventa un progetto sociale di bonifica di quel centro storico, se però poi si consuma un'idea che è a servizio di quel territorio. Lavorare in spazi, diciamo, che non sono da centri storici ma che sono anche moderni, significa portare più contemporaneità. Quindi io non entrerei troppo nei luoghi. Dall'oggi a costruire un teatro che sia storico, che sia nuovo, passa del tempo. In questo tempo noi abbiamo bisogno invece, come comunità, di costruire l'abitudine ad andare a teatro, ad avere rassegne di teatro, rassegne per l'infanzia, spazi per la musica, rassegne, diciamo, di cultura, di cinema, cioè di arte al 360 gradi. Perché non è il luogo che ti va a caratterizzare una progettazione, ma la progettazione che poi si insedia in un luogo. Quindi in parole povere, educare alla cultura e all'arte. Sì, più educare recuperare, educare i giovani bambini, diciamo, soprattutto in una città che, diciamo, ne fruisce poco di questo, ma soprattutto riappropriarsi di questo senso di comunità, dove la cultura, parliamoci molto chiaramente, sviluppa turismo, sviluppa indotti, attorno ad un evento si creano tantissime opportunità. Dagli stessi artisti che devono andare a cena, dormono nelle strutture locali, nei iota, al pubblico che dopo il concerto va al ristorante, va al bar, al merchandising, cioè ai parcheggi, tutto si muove. Quindi io credo che il senso di pensare alla cultura come un fine proprio, soggettivo, non mi appartiene. La cultura deve essere un bene comune. Per essere un bene comune deve avere però una progettazione in sinergia tra operatori e amministrazione comunale. Grazie.